Ben trovati per l'appuntamento di Cuneo Sport, Cuneo Sport che... Mondo sportivo e giornalistico cunese in lutto per la scomparsa lo scorso venerdì 22 gennaio dell'amato e stimato cronista Piero Carosso. Aveva 74 anni e viveva a Cuneo nel quartiere San Paolo. Si era già fatto apprezzare nella lunga carriera ai magazzini di Miroglio in Corso Nizza, distinguendosi per la sua nota cordialità e professionalità. Ma è stata soprattutto la sua passione per le gare sportive e il loro racconto ad avvicinarlo ai canali radiofonici e televisivi locali. Negli anni si è sempre più impratichito come cronista e giornalista. Non si è risparmiato nell'inseguire le auto da rally nei circuiti più importanti, oppure gli incontri al Palau Bibanca del Volley, non dimenticando il ciclismo con la Fausto Coppi e il Giro d'Italia, ma tantomeno il calcio, non lasciando mai vuoto il suo posto in tribuna stampa al Paschiero per le partite del Cuneo. Proprio a GRP aveva condotto il TG sportivo Cuneo Sport con un seguito di ospiti di rilievo per la grande. Un giornalista che ha di certo vissuto un lungo tircinio sul campo e per questo infatti si autodefiniva con orgoglio autodidatta. Instancabile e vitale come pochi, ha affrontato molte sfide, sempre con il sorriso e la sua immancabile grinta. Con la stessa passione e cura che spendeva ad escrivere lo sport, si è dedicato all'amata moglie Franca e alla sua famiglia. Un uomo generoso non solo di parole, amante della comunicazione a tutti i livelli, che ha di certo lasciato un'impronta indelebile nel cuore di chi abbia avuto la fortuna di lavorare con lui o anche solo di conoscerlo. Un uomo la cui parola aveva un peso e un solo significato. Stringendoci sentitamente al dolore della famiglia, salutiamo Piero con un arrivederci. Oggi c'è tutto, il sole, il pubblico, i concorrenti.